PAPI Senti, ti ho già detto di non gridare con me PAPA LUNA La luna? Guarda le mucche che fanno la nanna, va? Eccole là L'hai visto? Sono da fare la nanna Adesso c'è l'altro laghetto qua, guarda che bello PAPA 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Mami 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 aia il dutta aia il dutta aia il dutta dov'è? dutta dutta lo prendi papà va varta varta BAU-BAU! BAU! CHEI! CHEI! NANA! NANA! MAMI! MAMI! Basta wow wow eh! MAMI! 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 Ehi! Se continuiamo a farla cadere! Non ti do più! MAMI! 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 MAMI!!! MAMI! 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 No Pilla 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 Ahhhh Ahhhh Oh 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 Babi, Babi Sassi Babi Sassi Babi Wow Wow Lì! brrrr 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 eba nana eba nana sassi nana eba 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 Oh 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 Sì sì Papi Papi, papi osso, papi osso, papi osso, papi osso, il trampolino sta verde, guarda il camion grosso, guarda, bravo, 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 poca miseria, guarda com'è grosso. E' visto? Porca miseria. Attento che verde, verde. Verde! Guarda, 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 si, si, scavatrici, guarda, vedi? Questo schiacciassassi, quello che c'hai tu a casa. Papi sassi! E questa è la scavatrice? Si. Vedi come fa? Hai visto? Papi, la gru, la gru, hai visto? La penna con la scavatrice. Ecco qua. Adesso facciamo il passo del Maloia con tutte le veste. Le curve, la mamma, non ci ricordi neanche più? Facciamo taggia, taggia, ecco qua, dice guarda di là c'è Gio. Gio. Cosa giù? Cio. No. Di tu! Passo del Maloia Ce n'è 25 di queste. Non havia la vorne qui lui, ma si chiara fa la base! Puoi puoi. Puoi! Puoi ca qui! Puoi! 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 papi dada! papi! se stai zitto un attimo lorenzo provi adesso! mamma mia! l'hai visto? si è stato bravo per rinfermarsi e far passare le macchine qui passiamo da 1.600 a 600 metri o no i pembo vedo! i pembo vedo! in pERE AND SALEFINI che stai zitto il It's hindritto diet!! papiado! 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 non è più la porsche la una ma è in mezzo al bosco in svizzera non si mangia perché non arriviamo in italia non si può mangiare quando passiamo la dogana puoi mangiare quel cazzo che vuoi papi dolce guarda che c'è la scavatrice hai visto la benna con la scavatrice e mettono a posto qua e mettono a posto la strada che cade camion grosso c'è dentro il cemento tutto colorato rosso bianco e blu adesso c'è il semaforo rosso vede 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 vai se quel cretino con la betoniera si ferma partiti partiti si ho visto si son lorenzo vedo vedo e ci fa passare se no lo passiamo noi non è un problema si questa macchina è il cazzo non puoi neanche andare si è bella però dietro la macchina si vediamo se papà riesce o c'è il giugno c'è 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 Se fai il bravo, dopo prendiamo i ciasci. Dopo vi doi? Si, chiudi gli occhi un attimo dai, che siamo arrivati dai. Fai il bravo eh. Alla prossima. Lorenzo, siediti bene, per favore. Giù. Dai. Papi. Cosa c'è? Papi Dada. Papi Dada. Papi Dada. Papi. Si. Papi Dada. Papi Dada. ... ... ... ... ... Mami! Mami! Ora voi! Mami! Mami! Wow 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 Hai fame? Sto dormendo Dormi, chiudi gli occhi un attimo Mami, mamma Aspetta Aspetta Andiamo e la mangiamo Ci fermiamo lì a Piuro, alla Crotto Si è aperto Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.